ciao e benvenuto in questo nuovo video oggi andiamo a vedere un nuovo programma per la scansione dei nostri client e server e anche per la configurazione dell'assessment vediamo un attimo di chi sto parlando sto parlando di wazoo che è praticamente in due versioni la versione gratuita che si può scaricare con il link in descrizione c'è il file o via che tu lo scarichi e lo installi dentro il tuo server o su vmware se vuoi c'è anche le istruzioni per installarlo su virtualbox ma andiamo subito a vedere di che si tratta ed eccolo qui allora ti faccio vedere un paio di cose intanto questo è il client da installare sui computer chiaramente in questo caso è installato sulla mia macchina reale poi questa è la vm che io ho preparato che eccola qui che appunto è il file che poi troverai anche in descrizione è molto semplice l'installazione non richiede particolari conoscenze ora vediamo un attimo qui vedi in alto a sinistra che ce n'è uno active che appunto è il mio computer che eccolo qua ci appare alcuni dati intanto vedi qui mitre attacca e ci dice tutte le informazioni necessarie poi la compliance che questo computer non ce n'ha molta i grafici ma tuttavia andiamo a vedere qualche cosa per esempio treat hunting cioè la ricerca degli attacchi e per il momento il mio computer non ne ha ecco e spero anche di non averne punti poi qui abbiamo il file integrity monitor questo che al momento non c'è niente ti fa la scansione dei files clicchiamo su inventory qua vedi che ci sono tutti i file del in questo caso delle alcune cartelle quante pagine ci sono due alcune cartelle che il software controlla automaticamente si sono state alterate no i file e poi chiaramente gli eventi vulnerability detect niente vulnerability poi cliccando qui in alto a sinistra andiamo su configuration assessment ecco qui ci dice che 116 controlli sono passati mentre 275 non passati score 29 ora l'obiettivo qual è è aumentare lo score appunto il punteggio bene come si fa è molto semplice con questo software che ripeto è gratuito e funziona bene per esempio qui ci sono un sacco di pagine qui ci fa vedere solo le prime 10 righe io metto 100 righe e come vedi appare tanta roba allora se io prendo per esempio questo il primo se io ci clicco lui mi dice che longer and user and uses the same password bla 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 in sostanza to establish the recommended configuration via gp quindi group policy set the following ue path to 24 or more password so quindi per appunto la compliance della password e qui ti spiega come devi fare però ce n'era un altro che era molto carino per esempio questo che ti dice che è fallito che sempre riguarda in questo caso gli update e lui ti dice quali chiavi di registro devi modificare e come devi modificarle per essere compliance quindi per aumentare lo score compliance vuol dire in sostanza per essere che ne so per esempio compliance al gdpr compliance al pci dss al nist in questo caso 853 e poi ai vari standard questi sono americani che hai bisogno controlla anche ovviamente docker google cloud office 365 github e amazon che non lo vedi amazon perché ci sono io davanti ma eccolo qua allora questo è appunto una breve overview di questo software ora io l'ho acceso da diverso tempo quindi per diverso tempo intendo giorni proprio per vedere come funziona e sinceramente funziona bene qui malware non li trovati e malware li trova perché io ho installato il client sulla mia macchina cali e anche su una macchina windows server sempre sulle macchine virtuali sulla macchina windows server ho installato un malware appunto per vedere se lui lo detecta e lo trova lo trova e te lo segnala e lo segnala chiaramente non è un antivirus quindi non te lo rimuove però nel critical severity qui tappare uno per esempio oppure 15 in base appunto al livello di criticità fatti qui c'è scritto rules level 15 oaia e poi come vedi medium severity invece se clicchiamo qui qui tappare tutta la lista chiaramente questi log questa lista questo time stamp valetto e appunto deve capire uno deve indagare deve studiare appunto cosa sta guardando perché altrimenti così di primo impatto ovviamente non ci si capisce niente comunque questo è un software molto utile per aziende anche piccole ma appunto non è detto perché un'azienda sia piccola allora che so le password non importano oppure non ci interessa che sia compliance al gdpr non ci interessa un fico secco no non è così con un software gratuito ad esempio questo tu puoi effettivamente come dire in improve no migliorare la sicurezza dei sistemi dell'azienda quindi i client ma anche server e trovare come si è visto prima appunto le vulnerabilità basta andare qui su configuration assignment e qui ti appare tutto non c'è vedi qui ti dice insure the password must meet complexity qui ti dice che la password deve essere di quelle complesse e chiaramente il mio computer è il mio computer di casa e non ha questa policy attiva però è ovviamente utile averla in azienda quindi che non è che un utente può mettere la password pippo 123 o password semplici ma le password complesse proprio per proteggersi perché le minacce sono all'ordine del giorno se ti interessa scaricare questo programma trovi il link in descrizione dove ti scarichi la vm e semplicemente la installi poi installi anche client per il client invece che ti faccio vedere qui serve questo qui l'authentication key se vuoi provare ad installarlo e non sai come installare questo fammelo sapere nei commenti e ti scriverò come creare la chiave e come esportarla per poi insomma copiarla e incollarla qui sostanza questo non è mandatori il authentication key è meglio avercelo però perché in sostanza che cosa fa allora quando te fai partire il client metti l'ip della della tua macchina virtuale e lui si collega appunto alla macchina virtuale ma invia tutti i dati ora con l'authentication key invece crea un canale sicuro di comunicazione quindi criptato ecco è per sicurezza perché questo perché se hai il questo sistema sul cloud per esempio da blue s e lino ad eccetera e chiaramente funziona in modo sicuro con l'https che in questo caso però su questa macchina non c'è certificato cioè c'è certificato ma non è quello pubblico e le comunicazioni potrebbero essere intercettate quindi è buona regola come dire proteggersi meglio se ce l'hai male non fa detto questo ti invito a provare questo software che è molto carino per il monitoring e al prossimo video ah sì se ti è piaciuto il video lascia un mi piace se non sei iscritto al canale iscriviti al canale e insomma le solite cose ciao e al prossimo